Vorrei dire qualcosa sul decreto legislativo 39 perché il decreto legislativo 39 che è sicuramente uno dei decreti più importanti emanati a seguito della legge Severino è un testo su cui bisognerà più presto fare modifiche perché esistono tutta una serie di carenze. Dicevo, dato una scorsa molto veloce, credo che l'idea di fondo è quello di sostanzialmente regolamentare il meccanismo del conflitto di interesse e di prevedere conflitto di interesse collegato non solo allo svolgimento di cariche pubbliche come avviene con riferimento soprattutto del decreto 39 ma con riferimento alle cariche, alle attività di carattere economico e imprenditoriale e le soluzioni che sono abbastanza diverse a secondo dei vari testi legislativi, non mi risulta Presidente che ci sia ancora un testo unificato almeno io non ho avuto menzione, sono abbastanza diciamo fra di loro lontane di diverse con una serie di probabilmente anche interventi sul piano della stessa libertà di impresa su cui forse qualche riflessione va fatto e in questa fase mi vorrei anche aggiungere che in uno dei progetti di legge si prevede per esempio la creazione di un'ulteriore autorità di garanzia che si tratta credo di un trend ormai in linea, cioè assolutamente non in linea con gli ultimi trend legislativi in cui le autorità di garanzia vengono ad essere ridotte piuttosto che ampliate si tratta di un elemento su cui ritengo che diciamo di evidenziare ulteriori perplessità sul fatto che si crebbe un'autorità di garanzia specifica con riferimento solo all'incompatibilità dei parlamentari e degli organi di governo accentrando su cinque membri secondo il disegno di legge un potere particolarmente rilevante ma tutto sommato anche funzioni che possono essere nei fatti molto limitate si rischierebbe di creare l'ennesima pletorica autorità senza nessun particolare vantaggio e scusatemi se vado diciamo così a volo d'uccello ci sono poi valutazioni separate su come gestire soprattutto gli interventi sul piano patrimoniale che vanno dall'idea del trasticeco fino a veri e propri commissariamenti o persino vendite coattive di beni su cui devo dire forse qualche perplessità sul piano costituzionale credo che possa essere avanzato allora